Ecco ragazzi, siamo arrivati al momento degli esami. So che state studiando, so che con i vostri insegnanti e tutti i vostri compagni avete lavorato molto per arrivare a questi esami. State tranquilli, sarà il momento in cui voi potrete valorizzare al massimo tutto quello che sapete, ma anche tutte le vostre esperienze. Gli esami sono un momento di passaggio e vanno vissuti così anche con entusiasmo e poi ve ne ricorderete, ve ne ricorderete più avanti, quando sarete più grandi, ve ne ricorderete con molto affetto. Anche noi qui stiamo lavorando molto al Ministero per permettere a tutti voi di poter avere il massimo delle vostre possibilità. Abbiate fiducia in voi. Noi abbiamo anche qua messo a disposizione sul nostro sito, sulla nostra rete social, tutte le informazioni che vi potranno servire per affrontare al meglio questo passaggio. Quindi tranquilli, sereni e soprattutto entusiasmo. Siamo arrivati alla fine di un percorso e ne cominciamo un altro ancora una volta insieme. Grazie. 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 Grazie.